Ma la condizione c'è, ho dimostrato di averla e non è una gara facile da interpretare soprattutto per i partecipanti, ma cercheremo di dare al massimo con la squadra. Tra l'altro come squadra avete più frecce sul quale puntare? Sì, sicuramente siamo una squadra bella guerrita, abbiamo più di una carta da giocare e cercheremo di giocarcele tutte quante. Bocca al lupo!